Ciao a tutti e benvenuti sul canale, come avrete capito questo è un video diverso dal solito, è infatti fatto in collaborazione con Zephi, un bravissimo coach. È molto importante che voi ci facciate capire se vi piace questa roba, perché se vi piace questo video noi stiamo pensando di farci appunto una serie di video, ok? In cui vi diamo delle informazioni veramente importantissime e che vi aiuteranno un sacco a migliorare su League of Legends e a salire di ELU. Tutto grazie a Zephi, che è veramente molto molto bravo nel coachare perché non ti fa mai sentire male quando ti dice qualcosa, quando ti sottolinea un tuo errore. Dici vabbè è un errore, può succedere, però ecco tieni in presente che se fai così cos'ha, insomma secondo me è veramente bravo. Non so se lo sapete ha coachato Paolo Cannone, ha coachato un sacco dei grandi di YouTube Italia, di League of Legends diciamo in Italia e quindi insomma è veramente una garanzia. Ora un piccolo disclaimer prima della partita, questa non è stata una buona partita, io non ho giocato bene, di solito non gioco così, gioco meglio, ve lo devo dire perché mi sento un po' esposto no? E' ancora più utile per voi vedere una partita in cui non ho giocato bene perché faccio più errori che probabilmente sono degli errori che potreste fare anche voi. Zephi ovviamente non sapeva che questa era una delle mie partite tra virgolette peggiori e è stato molto preciso e ha detto un sacco di informazioni. Alcune delle quali io già le sapevo, altre invece che sono veramente importanti. Quindi vi consiglio di prendere carta e penna e di guardarvi questo video fino alla fine e mi raccomando nei commenti, like, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie di video e spero che vi piaccia. Qua decidi di partire da red, questo va un po' forse contro. Una delle cose che abbiamo visto poco fa però vuol dire che dodgi completamente la top lane, cerchi di stare lontano dalla top lane perché concluderai in bot, avrai un giorgio 3 e così via. Sì ho pensato sicuramente di gancare bot perché questo è il ragionamento che credo aver fatto, mi pare di ricordarmelo precisamente e non vorrei confondermi con un altro game. Ho detto siccome in bot lane loro sono in svantaggio perché suona ha flashato, probabilmente verranno pushati e quindi ho opportunità forse di gancare. Anche se loro in realtà sono due ranged e quindi forse pusheranno loro. Ok va bene, quindi tu vuoi fare una strada di questo tipo per gancare la bot. L'unica cosa diciamo che non facciamo quando partiamo da qui è che non mettiamo in difficoltà Mastery che non ha flash, perché lui è davvero una free kill per noi. Se lo becchiamo da qualsiasi parte muore, quindi in questo caso gli concediamo il free farm, mettiamola così. Ok, ok. Questa è semplicemente un'idea, non è obbligatorio invaderlo però dato che hai un vantaggio nel matchup sarebbe un peccato non sfruttarlo. Non sfruttarlo, certo. Ma in questi campi è un po' strana come strada, adesso ne parliamo. Crax e Rana valgono di più. Sì. Importante cercare di prenderne uno se possiamo, soprattutto se dobbiamo scegliere tra lupi e gromp non c'è nemmeno storia, andiamo sempre sul gromp. La seconda cosa è che tu qua fai uno, due, tre, quattro, cinque campi e sei livello tre col doppio buff come se tu ne avessi fatti tre, giusto? Esatto, esatto. E questo è un totale sfreco perché se tu vai a fare una strada di questo tipo allora fai uno, due, tre, quattro, cinque, sei e allora fai livello quattro e quindi hai un impatto più alto sul tuo prossimo campo, la tua prossima azione. Invece qua facciamo una cosa molto strana, in più lasciamo i due campi con più value, vuol dire che questi rimarranno livello 1 finché non li uccidiamo e non respalneranno con un livello più alto. Quindi l'income di gold e di esperienza sarà un po' più basso. Ridotto, certo. Ok, e qua cerchiamo di far qualcosa attorno alla botta, aspetta, andiamo indietro a quando prendi la decisione, quindi qua stai facendo Giorgio, quindi dovresti guardare un po' che succede altrove. Sì. Tamcancho è già stato cacciato, quindi in base sta tornando e qua c'è una Senna un po' bassina di vita. Senna non aveva bruciato Salmoner a livello 1, adesso è molto bassa. Il problema qua è proprio Tamcancho perché Tamcancho starà tornando, è via da troppo tempo. Esatto. Di conseguenza, quando noi prendiamo la decisione di andare a botta, noi ci stiamo mettendo in una posizione scomoda dove arriveremo quando la wave non c'è e Tamcancho starà tornando, quindi non sarà facilissimo da fare come Gank. In più non hai necessariamente l'assistenza migliore, non hai dei campioni che dai vanno bene, tipo se hai un Pantheon Support e un Lucian di un altro discorso. Invece con Sonahash non abbiamo proprio questo gran valore. In più arrivando qua vediamo che i Golem sono andati, quindi sappiamo più o meno cosa ha fatto lui, in più ne otteniamo la conferma perché sulla mini-papa vediamo questa piantina, perfetto. Quindi qua sappiamo che lui ha fatto una strada da botta top, il suo primo campo che risponderà sarà questo. I Papagalli risponderanno dopo se li ha fatti, oppure se li ha schippati ha fatto una strada un po' strana che lui sono già atta. Quindi in teoria qua convertiamo il Pushing Bot per Counter-Junglare. Ok, non cerchiamo di forzare troppo qua. Forzare attorno a questa botta è molto rischioso, le probabilità di successo sono davvero basse. Anche perché passano a poterciare, non ci pensavo. Esatto, Temcance e la Pappa hanno entrambi i Flash, hanno pure Allial e qua stiamo perdendo una tonnellata di tempo. Cerchiamo di attivare il Fier, però non è un gank che dovremmo provare a fare. Anche come giocano, loro continuano a giocare in questo pacchettino qua. Sì, ma sono d'accordo. E la cosa è che stiamo sprecando un sacco di tempo. Nel momento in cui noi siamo i bulletti e Mastery vuole scalare. Quindi se noi facciamo dei gank di questo tipo, lui è strafelice, giusto? Dice che bello, con Mastery sta scalando e Warwick non sta smontando le mie lane. Il problema di piccare Mastery di solito è che dice ok, magari farmo per 15 minuti e poi guardo la minimappa e non ho più una torre. Addirittura i miei animatori stanno andando giù. E questo è proprio il tuo compito. È davvero un peccato perché se la guardiamo dal punto di vista più da scacchiera per i jungler, tu parti qua. Concludi qua. Fai questo Giorgio. Lui fa l'esatto opposto, giusto? Parte qua. Conclude qua. Fa questo Giorgio. In questo momento lui controlla il top side, tu controlli il bot side. Però in questo momento lui ha anche dei campi che respawnano in questa zona. Quindi tu dovresti immediatamente papparti questo, papparti questa. Se lui vuole può rispondere pappando questi due. E quindi qua andate in pari. Vuol dire che se tu e lui siete pari e fate questa cosa, nessuno dei due guadagna chissà quale vantaggio, però tu continua a dare pressione alla tua botta. E soprattutto prendi controllo della zona dove sta spawnando il drago. Il drago. Perché se lui ti mangia questi due campi, poi torna back e trova anche questi due campi, tu quando vai top non hai nulla e ti rimangono solamente lupi e gromp livello 1 da farmare, che non vale molto, lui intanto sta andando un sacco in positivo. Allo stesso modo se lui non fa l'invade, perché tu sei quello forte e lui no, tu lo metti davvero in difficoltà. Perché lui torna qui, non ha campi, tu sei andato positivo di 4 CS, positivo di altri 4 CS, vuol dire che lui in questo momento non troverà questi campi, in più ti papperai questi qua. E di conseguenza tu arriverai a un positivo di più 16 CS. Infatti di solito ogni campo rubato che non viene risposto è un più 8, perché togli 4 a lui ma guadagni 4. Guadagni 4, perché il risultato è 4. Esattamente. Invece in questo momento noi non stiamo pensando a nessuna di queste cose e quindi siamo ancora a un Warwick livello 3. Che praticamente è solo farmata. E quindi dici, vabbè, se è solo farmato non dovresti essere al 3, giusto? Eh no, almeno al 4, almeno. Esatto, esatto. Piccolo consiglio, se i nemici sanno già che sei in questa zona, usa anche la piantina per capire dove hanno le Ward o negare delle Ward che hai visto. Così crei più ombra e chiaramente diventa più difficile per loro giocare. Certo. Qua un po' di indecisione. Questa è una cosa molto sbagliata, noi dovremmo sempre andare sul sicuro, quindi sapere esattamente cosa vogliamo fare. Sì, diciamo che qua purtroppo fai un po' la fine del Mastery di turno, ovvero ti chiudi nella tua giungla e farmi. Ci può stare se non hai delle occasioni, ok? Ci può sicuramente stare. In bot il tuo team ha appena fightato, quindi di sicuro sono partite delle summoner, il tuo team c'è morto, adesso la wave è overestesa. Vuol dire che loro per forza di cose saranno costretti ad un recall, giusto? Quindi se tu sei ancora attivo sulla mappa, istantaneamente dovresti mangiare il drago. Così non devi più pensarci e anche se non hai provato delle killa, hai comunque creato un vantaggio per la tua squadra. Certo non sarà tanto il singolo drago che vi darà chissà quale vantaggio, perché 4% a PAD al minuto 5 non è game changing, giusto? Niente Però ti sblocca la possibilità di fare un secondo drago, vuol dire che tra una quindicina di minuti potreste già minacciare l'anima di drago. Giusto E quella è davvero molto potente Ah e poi io ricordo, mamma mia, vabbè, che hanno preso loro il drago? La cosa è che in questo momento Mastery prende un rischio. Dice ok, ho visto Warwick che ha concluso qua, vuol dire che probabilmente adesso è tornato nella sua giungla e o è andato back o è andato diretto a topside, però me lo aspetto sopra. Quindi ora come ora, anche se non ho una bot lane, posso provare il drago. Se per caso lui c'è, lascio via, se lo prende lui, finisce male, però se lui non c'è, ottengo un vantaggio gratuito. Giusto Il tuo compito in questo caso era quello di assicurarti quello che era tuo. Qua Mastery lo punivamo tantissimo prendendo la decisione giusta. Certo Prima abbiamo parlato di Clid, che prende sempre le decisioni giuste. Qua Clid, questo Mastery gli avrebbe fatto fare la fine del pollo, perché l'avrebbe beccato dentro il pit del drago. Basso di vita, con un drago basso di vita. E se ti ricordi, il suo flash era stato usato nel primo fight, dato che non arrivava ancora al sesto minuto, non aveva nemmeno modo di scappare. Quindi qua praticamente ti lisciava lui il drago e ti regalava tutti questi vantaggi. Invece noi abbiamo fatto un clear della giungla, un po' indecisivo, nel senso che dopo ogni campo abbiamo recallato, poi abbiamo detto Uh, aspetta che vado a fare anche questo. E quindi noi arriviamo a sette minuti. E poi lo caldo, ho preso la diamantà, si l'ho preso. Ok, sì, la diamantà almeno l'abbiamo. Il problema è che noi arriviamo a sette minuti, avendo perso il drago, non avendo preso vantaggio in nessuna lane, con lo stesso farm di Mastery, addirittura lui è un po' vanno. Ah sì, esatto. E quindi diciamo che questo sarebbe già un early game da buttare. Certo. Non abbiamo counter giunglato, non abbiamo mai fightato Mastery, non abbiamo fatto il drago nonostante siamo Warwick contro Y. Non abbiamo aiutato nessuna lane nonostante siamo il jungler più forte, quindi non sei contro, non lo so, uno sciacco dove magari hai un po' paura di fare un gank perché se c'è anche lui ti ignaita muore e così via. E quindi qua stiamo giocando iper passivi con un campione che vuole giocare aggressivo. Se tu mi fai questa cosa con Mastery va anche bene, giusto? Però se la fai con Warwick in questo matchup è davvero un problema.